Buongiorno a tutti, oggi è il 29 agosto 2019, siamo qui al giardino botanico, professore, buongiorno. Buongiorno, avevamo già sentito, c'era stato comunicato nella sede del laghetto del fotovoltaico che le tartarughe pescate sarebbero poi andate provvisoriamente ma poi con una sistemazione che avrà una sede definitiva nel laghetto dell'orto botanico, quindi sarebbero passate di qui per essere prima visitate e poi sistemate. Qui abbiamo la nostra associazione che è quella di Amici di Freud, abbiamo qui il nostro amico Edoardo Ormano. Buongiorno a tutti, che è un esperto, un erpologo, è giusto? No, sono solo un semplice appassionato con un po' di esperienza frutto degli insegnamenti del vettorinario, del dottor Di Stefano che è il nostro veterinario di fiducia e quindi adesso esaminiamo queste tartarughe. Ci puoi dire che cosa hai trovato? Allora, queste sono le tartarughe che vengono dal laghetto del fotovoltaico. Quante sono innanzitutto? Dunque sono una, due, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, venti esattamente. Tutte abbandonate da persone? Tutte abbandonate, sono quasi tutte trachemis scritta, quindi una specie classificata come invasiva, esotica, invasiva, aliena dall'Unione Europea e pertanto dal primo di settembre questi animali sono sottoposti a una disciplina. I privati che le hanno le devono denunciare al Ministero dell'Ambiente, se seguite la mia pagina Facebook più volte ho già pubblicato il link per fare la denuncia. Quelle presenti nei laghetti come fotovoltaico, corso 4 novembre possono restare ma devono essere ovviamente raccolte, poi denunciate, dalle associazioni che le seguono oppure dagli enti pubblici, quindi comune, provincia, orto botanico e quant'altro. Edoardo ci puoi dire, vediamo alcune... Ancora faccio solo una precisazione, alcune non sono trachemis, dunque le trachemis, questo è molto importante anche per chi ha degli esemplari e deve fare la denuncia, ricordiamo che il termine scade sabato 31, trachemis scritta si riconoscono perché hanno queste strisce rosse oppure gialle ai lati della testa, hanno questa strisce, sul piastrone ci sono delle macchie oppure non ci sono. Ci sono poi anche altre specie, qui nel laghetto, questa per esempio che è diversa, una pseudemis concina. Chi ha tartaruga di questa specie non la deve denunciare perché è un esemplare ancora poco diffuso. La differenza sta proprio nella guancia e poi anche cambia leggermente la forma del muso, il carapace in genere è più scuro e il piastrone è più sull'arancione anziché sul giallo. No, 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 queste sono tutte trachemis scritta. Abbiamo quelle che hanno le guance rosse, sono trachemis scritta Elegance, questa è la guancia rossa. Questa che ha la striscia sempre orizzontale ma si vede poco gialla, una trachemis scritta Trosti e poi ci sono quelle che hanno la classica macchia a forma DC, questa è piccolina, ODS, stilizzata, sono trachemis scritta scritta. Queste vanno tutte denunciate. Gli esemplari qui sono in genere abbastanza sani ma alcuni, diciamo un 30% hanno lo scud. Lo scud è una malattia ulcerativa, provoca, si vedono molto bene su questa, però io adesso non la tocco perché altrimenti poi dovrei nuovamente disinfettarmi le mani. In particolare qua sul bordo troviamo delle ulcerazioni di carattere, sono delle macchie, ecco, delle ulcerazioni che tendono poi col passare del tempo a sfaldarsi ed esce del tessuto necrotico. Viene anche poi un odore sgradevole, sanguinamento, questo è scuse. È una patologia a carattere batterico e fungineo, quindi praticamente deriva da un batterio e da un fungo e viene in genere quando le condizioni igieniche non sono ottimali. Nella gatta del fotovoltaico sappiamo tutti che la situazione era un po' critica, quindi è normale. Queste ovviamente saranno poi valutate dal veterinario, io mi sono limitato per ora a disinfettarle. In questo prodotto qua. Sì, in questo prodotto, dopo aver per ora schiato la parte necrotica che è la parte. E poi abbiamo la regina del laghezzo che è, questa è una cosa impressionante e ve la faccio vedere. Questa è una tartaruga che è affetta da una gravissima forma di momma. La momma è una malattia ossea metabolica, in inglese si dice metabolic bone disease. In pratica quando la tartaruga viene tenuta male, insomma alimentata a gamberetti secchi, senza raggio, UVB, sviluppa queste malformazioni del carapace che la portano poi ad assumere un aspetto mostruoso. E questa è una malattia irreversibile. La tartaruga ormai si è sviluppata così e tale rimarrà. In pratica in questo punto, per motivi che non sappiamo, però sicuramente legati a degli errori di allevamento da parte di chi l'aveva, il carapace anziché svilupparsi come di norma si è sviluppato in un modo totalmente anomalo con questa gobba. Questa è una malattia irreversibile. Però la tartaruga per il resto è sana, ecco, direi che è molto molto sana e molto attiva. Addirittura vedete che anche la testa è un po' piegata perché non riesce diciamo a tirarla fuori nel modo giusto. Certamente. Valuteremo se il veterinario può eventualmente intervenire, ovviamente il veterinario specializzato in rettili può intervenire per magari, non so, animare un po' a fare in modo che riesca a muotare un po' meglio. Ma questa è un'operazione chiaramente che farà un veterinario specializzato in rettili. Però sono due anni che è lì nel laghetto, quindi vuol dire che è sana, ma altrimenti non avrebbe passato. E noi nelle nostre visite avevamo visto e l'avevamo anche ripresa una tartaruga che nuotava quasi in verticale. E questo è da verificare perché attualmente sono in poca acqua e non siamo in grado di dire se stanno a nuotare. Bisogna poi metterli in più acqua, almeno una colonna di 30. Non è senso che probabilmente aveva un... Sì, probabilmente è un problema legato ai polmoni. Potrebbe essere una forma di polmonito oppure un polmone enfisemico, magari per l'età. Potrebbe trattarsi di una di queste grosse tartarughe. No, era più piccola. Comunque adesso poi le esamineremo una ad una e valuteremo. E mi sembra che fosse stato un elegance. Sì, valuteremo un attimo. E ci puoi dire dove verranno, cosa fanno una quarantina? Allora sì, adesso per 15-20 giorni dovranno rimanere separate. E poi queste, essendo la maggior parte tre chemise, saranno tenute qui dall'orto botanico. O che impede? Nel laghetto nuovo. Certamente nel laghetto nuovo. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Separati dai pesci perché... Andiamo a vederlo. Andiamo a vedere questo laghettino. Ecco, il laghetto è questo. Ovviamente è necessario, quando si parla di tartarughe in un laghetto, fare in modo che non possano fuggire e che non si riproducano. La riproduzione è espressamente vietata dalla legge. Qua ci sono diverse piante acquatiche come l'infe e quindi mettere le tartarughe qua al momento non è possibile, in quanto significherebbe... Vedere scomparire le piante nel giro di pochissimo, quindi bisognerebbe operare una divisione. Una divisione, esatto. Si potrebbe utilizzare questa parte del laghetto, per cui sarà il dottor Andron Zenigo però a spiegarci meglio, utilizzare questa parte del laghetto per le tartarughe, però bisogna al tempo stesso anche restringere il territorio erboso a loro disposizione perché altrimenti deporrebbero le uova, poi qua ci sarebbe chiaramente un evidente pericolo di fuga. Questo è un laghetto che può andare bene per le tartarughe, ma dovrebbe richiedere qualche accorgimento perché così tartarughe scappano in un paio di giorni e in più possono deporre le uova riproducendosi, cosa che è espressamente vietata dalla legge perché le trachemis sappiamo che sono una specie invasiva e quindi proprio l'Unione Europea ha vietato la riproduzione. Sì, infatti come spiegavo poco fa dovrebbe essere diviso il laghetto, cioè una parte per le ninfee e le piante acquatiche, una parte per le tartarughe. Le tartarughe sono voraci, quindi si mangerebbero tutte le piante nel giro di pochissimo e in più bisogna rinforzare la rete perché così scappano. La rete deve essere interata almeno 20 cm e poi bisognerebbe anche intorno al bordo del laghetto uno steccato o una rete per evitare che vadano sulla terra perché sulla terra si possono riprodurre e questo non va bene. Ma è un laghetto che insomma con poco si può sistemare tranquillamente, un paio di giorni di lavoro e forse l'intervento più complesso è quello di posizionare una barriera intorno e poi delle zattere, delle isole galleggianti in plastico e in sughero per consentire il basking. Cioè la termoregolazione, le tartarughe si mettono su queste banchine e prendono il sole e stanno lì e quindi sì. Va bene, allora adesso continuiamo a curare le tartarughe, abbiamo qua sterilizzato gli strumenti perché tante patologie sono infettive e non possiamo certamente correre il rischio che poi vengano trasmesse anche alle altre e valuteremo poi certamente di farle visitare da un veterinario. Una cosa però vorrei ricordare a tutti, se voi avete l'obbligo di denunciare le tartarughe tra chemise entro il 31 agosto, altrimenti in caso di controllo poi ci sono delle sanzioni fino a 1000 euro, basta semplicemente mandare una comunicazione al ministero, basta su google digitare modulo denuncia tra chemise e il primo risultato, io in genere faccio riferimento al sito Tartapedia, è già quello corretto perché è contenuto il link, basta stamparlo, compilarlo e poi spiegherlo via PEC raccomandato fax al ministero. La seconda cosa, se avete delle tartarughe che non potete più tenere, non abbandonatele né in natura né nei laghetti urbani perché noi non possiamo più accoglierle, se ce le abbandonate ci mettete nelle grane perché poi dobbiamo fare tutta una trafila per comunicare al ministero che sono tartarughe abbandonate, che non le abbiamo messe noi, quindi diventa molto difficile, tenetele e a breve la regione, in Lombardia già stanno partendo, a breve spero anche in Piemonte verranno istituiti dei centri di raccolta autorizzati dalle regioni dove portare le tartarughe, saranno seguiti poi da cooperative, da personale comunque specializzato come noi e per il momento però tenetele a caso, ha fatto uno sforzo, anche se non hanno tantissima acqua non è un problema, basta un acquario, se avete due tartarughe, un metro di lunghezza, 80 cm x 40 x 50, filtro, lampa dei vapore di mercurio, poi adesso cambiamo dall'autunno il riscaldatore e alimentazione corretta, sono le cose fondamentali. Se le tartarughe hanno dei problemi non intervenite diciamo in modo autonomo ma fate riferimento al veterinario, qua in Alessandra abbiamo il dottore Di Stefano che è un professionista di comprovate esperienze e rivolgetevi a lui. La nostra associazione è a disposizione per fornire ogni tipo di chiarimento, ci trovate su Facebook, al laghetto di corso 4 novembre ci sono i pannelli che illustrano tutta la nostra attività, ci sono anche dei numeri di telefono, se avete bisogno... Ricordiamo il nome, gli amici di Freud. Gli amici di Freud, sì, siamo diciamo a disposizione, sì, Freud, scritto Freud comunque, sì, e siamo a disposizione per aiuti, chiarimenti e quant'altro. Grazie a tutti, grazie, grazie a voi e complimenti per l'attimo lavoro che svolgete, come sempre. Grazie, benissimo, ciao, arrivederci, ciao. Salve a tutti.